L'Ucraina è lontana anni luce dall'adesione all'Unione Europea. A dichiararlo è stato il primo ministro ungherese Viktor Orban, intervenendo al congresso del suo partito nazionalista Fidesz, i cui delegati lo hanno riconfermato leader indiscusso del movimento conservatore. Orban ha affermato che la promessa di avviare negoziati per l'adesione di Kiev è stata un errore. Lo scorso 9 novembre il suo capo di gabinetto aveva evocato la possibilità di concedere all'Ucraina una partnership privilegiata al posto della piena adesione. Orban potrebbe esercitare un diritto di veto in merito all'ipotetica adesione, poiché essa necessita dell'unanimità degli stati membri. Secondo la Commissione Europea, invece, Kiev soddisferebbe il 90% dei requisiti richiesti da Bruxelles. Sabato si è tenuta a Kiev una manifestazione contro la corruzione ancora profondamente radicata nelle istituzioni pubbliche. tanto da sottrarre perfino risorse alle forze armate, malgrado la guerra in corso.